ciao mitici in questo video vi parlo del meglio corso di global communication che non solo è il meglio corso ma anche gratis di glauco benigni e si chiama da gutenberg a zuckemberg vedete la strananza delle parole gutenberg zuckemberg e gutenberg sarebbe quello dell'invenzione della stampa a caratteri mobili che sarebbero quelle letterine che tu le mettevi uno vicino all'altro io mi ricordo da bambino le tipografie ancora utilizzavano con dei caratteri di piombo che rifacevano la parola poi la pressa la pressa la pressa stampava a grandi quantità molto più veloce rispetto alla scrittura che si faceva a mano prima dell'invenzione della stampa e quindi una delle rivoluzioni diciamo industriali ripercorrendo tutti i vari passaggi che ci hanno portato fino adesso al mondo dei social network passando per i giornali passando per la radio passando per la televisione passando dalla televisione pubblica alla televisione commerciale passando all'avvento della pubblicità da come il nel secondo del mezzo i potenti del mondo utilizzavano avevano la possibilità di utilizzare questi mezzi per poter fare propaganda influenzare l'opinione pubblica e come ancora adesso attualizzando adesso questa cosa viene ancora fatta e nel questo percorso andiamo a scoprire anche quindi diciamo un effetto collaterale come i grandi potenti del mondo hanno i loro aggregatori di potere ad esempio con questi grandi fondi di investimento tipo black rock vanguard 6 street dove queste grandi società posseggono praticamente il 2 il 3 il 4 il 5 per cento ognuna di queste di tutte le più grandi società del mondo e come quindi ci sia un per chi possiede in realtà queste grandi aziende abbia le leve per poter influenzare tutti i mezzi di comunicazione che esistono che siano che sia televisione o che sia anche google o qualsiasi tipo di social network è un corso interessantissimo prendetelo come se fosse un consiglio di un film ecco guardate i guardatevi questo film o guardate questo libro io spesso faccio video dove consiglio consiglio o sconsiglio articoli che mi sono comprato e pagato tipo un power bank un cavalletto una lucetta e quindi un attrezzo per tenere il telefono sulla bicicletta quindi come faccio recensione di questo oggetto guardandovi con grande piacere questa playlist ho detto ma perché mi devo alzare solo per far video di dei oggettini mentre questo io credo che sia veramente di grande valore quindi non l'ho fatto io il corso l'ha fatto Glaugo Benigni ma consigliato da mille da mille accendini e sono video che non sono in elenco quindi se vuole andate a cercare probabilmente non li trovate facilmente perché sono tutti quanti video non in elenco ma per trovarli potete o cliccare nella descrizione del mio video dove mi metterò il link diretto alla playlist o l'altro modo è scrivete Glauco Benigni che oltre a questo corso validissimo che mi sto guardando con grande piacere nel suo canale ha molti interventi che ha fatto in giro ospiti in altri canali fatti direttamente dal suo canale o interventi che ha fatti in televisioni e comunque è una piacevole una piacevole veduta chiamiamola così scrivete Glauco Benigni trovate il canale col faccione di Glauco Benigni cliccate sopra dopodiché a secondo che stiate col cellulare con la pad o col televisore comunque cercate playlist è differente nel cellulare trovate sopra scritto playlist nel televisore scorre di sotto trovate playlist su playlist a un certo punto troverete tra i primi posti da Gutenberg a Zuckerberg ma se state vedendo questo video forse fate prima andare nella descrizione cliccate e io vi metterò il link che vi porta direttamente a questa playlist l'ho vista non tutta però vi posso dire per i primi episodi che mi sono già goduto è sicuramente illuminante ci vediamo al prossimo video ciao mitici